Ciao a tutte, amiche del nostro canale. Oggi abbiamo una storia emozionante da condividere con voi, un'avventura che ci porterà attraverso un turbine di emozioni e colpi di scena. Siete pronti a immergervi in un racconto di speranza, dolore e resilienza? Bene, non perdete tempo, iscrivetevi al canale, lasciate un like se siete pronti per questa avventura, e commentate per farci sapere cosa pensate di questa incredibile storia che stiamo per raccontarvi. Siete pronti? Cominciamo! In una mattina fresca e soleggiata, Zuleya e Uzzum si stavano dirigendo verso un ristorante in città. L'atmosfera era carica di una melodia leggera e coinvolgente, trasformando il locale nel palcoscenico perfetto per le confidenze tra le due. Uzzum, desiderosa di condividere la sua determinazione dopo una recente sventura, esclama con speranza «Voglio diventare una dottoressa! Zuleya!». Le parole di Uzzum colpirono Zuleya nel cuore, trasformando la serata in un vortice di emozioni. Zuleya rispose con parole di conforto «Non preoccuparti, Uzzum. Studierai e diventerai una dottoressa!». Anche Unkar, guardando dal cielo, gioirà nel vederti utilizzare la borsa di studio che ti ha regalato. E tua madre Sanye, guardando da lassù, ti proteggerà. «Ogni giorno sarà al tuo fianco nel tuo percorso!». Nonostante le parole di conforto, un velo di tristezza avvolse le confidenze di Uzzum. «Mi sento così triste per mio padre, sai?». «Quanti anni sono stati insieme con mamma Sanye?». «Venti anni!» «Sono cresciuti insieme, almeno è quello che dice lui». Afferma che è stata mamma Sanye a crescere lui e a farlo diventare un uomo. «È difficile accettare che mamma non ci sia più. Ho perso mia madre. E papà ha perso sua moglie». Uzzum condivise il peso emotivo che portava con sé. «Sai cosa mi ha detto papà? Che io sono l'unico motivo per cui lui vive. Non piango mai a casa perché so che se mi vede piangere diventerà molto triste». Zuleya è davvero grata di avere Uzzum al suo fianco. E ogni parola di Uzzum sembra alleviare un po' del dolore che Zuleya sta provando. Quando Uzzum decide di andarsene, Zuleya le chiede di aspettarla in macchina mentre paga il conto e la raggiunge. Mentre si alzano per andarsene, Uzzum ringrazia Zuleya in modo educato, dicendo quanto abbia apprezzato quel momento speciale. Ma poi, improvvisamente, la situazione prende una piega inaspettata. Zuleya viene fermata da Akan sul marciapiede e scoppia una discussione imbarazzante. Zuleya cerca di evitare spiegazioni, ma Akan insiste nel voler essere ascoltato. La tensione cresce e, all'improvviso, accade qualcosa di drammatico. Uzzum, nel tentativo di aiutare Zuleya, attraversa la strada senza accorgersi di una moto che la colpisce in pieno. Uzzum vola violentemente sul selciato e rimane immobile a terra. Zuleya, presa dallo sconforto, si precipita verso il corpo inerte di Uzzum, mentre Akan e gli altri cercano freneticamente di offrire soccorso. Il motociclista, travolto dalla disperazione, si trova in uno stato di shock totale. Le sue urla cariche di terrore e rimorso si perdono nell'eco della tragedia. «Mio Dio, cosa ho fatto? Non era mia intenzione». Akan, preso dal panico e dalla tristezza, cerca freneticamente di fermare un'auto che passa lì vicino. Il suo grido al conducente è un appello urgente alla compassione, implorando di aprire subito la portiera. In pochi istanti, Akan con premura solleva il corpo inerme di Uzzum e lo depone delicatamente sul sedile posteriore dell'auto. La scena è densa di emozioni forti, con un'atmosfera di frenetica fretta e speranza disperata. La corsa verso l'ospedale è un turbinio di emozioni, ogni istante conta, e il cuore ansioso e preoccupato di Akan batte al ritmo incalzante della corsa verso l'aiuto medico, sperando che la vita di Uzzum possa essere salvata. Prima di dirvi il seguito di questa storia avvincente, vi consigliamo di iscriverti al canale e unirvi alla nostra community. Il cuore di Zuleya batteva forte, spettatore impotente di una scena tragica che si stava svolgendo davanti a lei. Una volta in ospedale, Zuleya e Akan cercano di raccontare ai medici cosa è successo, spiegando nei dettagli l'incidente con Uzzum. La povera bambina è stata investita e ha battuto la testa a terra. Mentre i medici cercano di soccorrere Uzzum, Zuleya, avvolta dalla disperazione, si sente in colpa, rimuginando sul fatto che invece di tenere d'occhio la piccola Uzzum, si è lasciata coinvolgere in una discussione con Akan. Akan cerca di consolarla dicendo, non è colpa tua, smettila di incolparti perché le hai detto di andare in macchina. La notte trascorre lenta, con un'atmosfera carica di tensione e incertezza, tenendo tutti nella sala d'attesa sospesi tra la speranza e il timore per la vita di Uzzum. Nel frattempo, Gaffur si ritrova solo nella cucina della villa, e un sussurro dei ricordi lo riporta alle vivide autoritarie istruzioni di Sanye mentre ordinava i lavori e danzava tra le pentole e gli ingredienti. Con il cuore appesantito dalla tristezza, si lascia cullare dalla malinconia, seduto solitario sugli scalini all'esterno. L'assenza di Sanye crea un vuoto struggente, e il flusso di ricordi si intreccia con il dolore, avvolgendolo come un'ombra implacabile. Poco dopo, Gaffur cammina lungo la strada, avvolto dalla tristezza e dal suo dolore tangibile. Man mano che incontra persone lungo il percorso, riceve espressioni di cordoglio e parole di conforto che gli vengono offerte come un fragile balsamo per il suo cuore spezzato. La strada è impregnata di un silenzio pesante, interrotto solo dai sussurri delle condoglianze. Gaffur, mentre cammina, finisce davanti al barbiere, dove alcuni locali si uniscono per consolarlo per la grave perdita. Mentre sta lì davanti, il barbiere, che era entrato nel negozio per prendere qualcosa, torna e si avvicina a Gaffur. Gaffur, con uno sguardo serio e un gesto significativo, gli porge alcuni oggetti raccolti da terra. Tra le mani di Gaffur, c'è una foto della sua famiglia e la piccola borsa di Uzum. Gaffur guarda il barbiere con uno sguardo interrogativo, chiedendosi il perché. Il barbiere, con voce sommessa, gli comunica la triste notizia. Uzum è stata investita da una moto proprio lì, davanti al suo negozio, e è stata portata d'urgenza in ospedale. Gaffur, in uno stato di incredulità e disperazione, scende dalle nuvole in cui la sua mente era sospesa. Chiede al barbiere di raccontargli di più, ma tutto quello che riesce a ottenere sono i dettagli del dramma e di come Uzum sia stata portata d'urgenza in ospedale. La notizia colpisce Gaffur come un fulmine, sconvolgendo il suo mondo già avvolto dal dolore e dalla disperazione. È così preoccupato che le parole gli si spezzano, e nella sua angoscia si precipita verso l'ospedale, dove la sua dolce Uzum, la gioia insostituibile della sua vita, è stata ricoverata d'urgenza. Il cuore di Gaffur batte furiosamente, accompagnato da un respiro affannato, mentre ansima attraverso i corridoi dell'ospedale. Arrivato sfinito all'ingresso, si trova di fronte a Zuleya. Il suo volto pallido tradisce l'ansia. Zuleya, con gli occhi gonfi di lacrime, cerca di trasmettere un minimo di conforto a Gaffur, stringendogli la mano e sussurrando parole di speranza. Gaffur, con la voce piena di emozione, cerca freneticamente notizie sulla condizione di Uzum, vuole sapere se sta bene, se è viva. Zuleya, con coraggio, cerca di calmarlo raccontando tutto quello che sa. L'angoscia nei suoi occhi riflette la paura di perdere anche Uzum, dopo la tragica perdita di Sanye. Il momento è carico di tensione, e la porta dell'ufficio del medico si apre lentamente. Il dottore esce con un'espressione serena, portando con sé una carica di speranza. Con voce calma, rassicura tutti annunciando che Uzum si è svegliata. Lì, sul lettino, la piccola sorride, gli occhi pieni di vitalità, ridando speranza a un cuore già segnato dalla sofferenza. Gaffur, sollevato, si avvicina con passo incerto al lettino, il volto illuminato da una luce di speranza, mentre le lacrime di gioia solcano il suo viso. Non dimenticare di unirti alla nostra community. Iscriviti al canale per non perdere i nostri contenuti esclusivi. Lascia un like se ti piacciono, e commenta per farci sapere cosa ne pensi. Grazie, a presto!